1 milione e 700 mila euro, è questo l'importo che verrà investito nel plesso scolastico di Bagni di Lucca per mettere in sicurezza e migliorare la scuola che ricordiamo ospita oltre 250 ragazzi tra primaria e medie. La cifra è stata finanziata dal Ministero degli Interni di quello che fu il governo Gentiloni. A comunicare l'apertura ufficiale del bando di assegnazione dei lavori è stato il sindaco di Bagni di Lucca Michelini con il suo vice Pacini. Già nel nostro programma, ma già nelle linee di campagna elettorale, avevamo indicato come prioritario nel nostro mandato l'adeguamento delle nostre scuole. Questa scuola qui a Bagni di Lucca è la scuola media, c'è anche una parte riservata alla scuola elementare, ma dove passano tutti i ragazzi del comune di Bagni di Lucca. Questo era importante perché è un edificio strategico per il nostro comune. I lavori partiranno a primavera, verso la fine dell'anno scolastico. L'impresa che si aggiudicherà l'appalto inizierà le opere esterne per poi proseguire durante l'estate in modo da limitare il più possibile disagi ai ragazzi e agli insegnanti. Si tratta di opere importanti che riguardano l'adeguamento, ma non solo. Praticamente qui la scuola viene messa in sicurezza sull'antisismica, facendo dei rinforzi sulle colonne, sulle basi, verrà messo anche dei giunti che uniscono le cinque strutture per collocarle e fare praticamente un corpo unico. Allora, l'intervento totale è di 1.720.000, dove ci sono anche delle migliorie sicuramente nel ribasso d'asta, nella conclusione dei lavori e del tutto, andiamo a pitturare tutta la scuola dentro, facciamo dei bagni nuovi, facciamo dei pavimenti dove necessitano nuovi. Se c'è bisogno anche di qualche infisso, vediamo attualmente al momento quello che possiamo fare.